partite dai 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 che francia della fase che tempo va dai veloce 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 su su laterale le braccia attenzione sulle braccia domiti alti guardate ci sono anche le braccia dai 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 non parlate ragazzi dai dai non parlate su veloce velocità va bene va bene e fare un schifo normale lì un 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 1 2 3 4 5 5 5 5 6 9 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 17 17 19 19